Mister Mazziotti, un successo importante, primi segnali incoraggianti per questo Gladiator? Io direi secondi segnali incoraggianti, li ho avuti già domenica a Volla, li ho avuti se vogliamo anche in settimana a Mondragone e li abbiamo avuti oggi. Lo ripeto, la mia è una squadra che ha bisogno di crescere atleticamente, siamo una squadra nuova per gran parte degli elementi quindi c'è bisogno anche di tempo per amalgamare il tutto. Vedo i ragazzi volenterosi, grintosi e anche ambiziosi e questo è la cosa che più mi dà speranza per poter essere protagonisti nel campionato. C'è qualcosa che oggi non le è piaciuto, è stato un Gladiator perfetto? Assolutamente no, il Gladiator mi è piaciuto a tratti, alcune situazioni vanno migliorate come la gestione della gara, noi non possiamo concedere all'avversario la speranza sul 2-0. Una squadra importante sul 2-0 ma anche sul 1-0 fa sembrare partita chiusa, quindi se vogliamo diventare squadra importante abbiamo bisogno di crescere sotto questo aspetto. Avete affrontato due formazioni che erano da molti accreditate per un campionato di vertice e invece avete superato questi esami a pieni voti, merito soprattutto vostro? Merito sicuramente anche nostro, nel senso che noi stiamo lavorando, è chiaro l'obiettivo è quello di affrontare tutti gli avversari con il massimo rispetto e poi è sempre il campo a decidere chi merita o meno. Io sono contento di quello che abbiamo fatto in queste due partite considerando che le avevo prese come partite dove dovevamo limitare i danni, ne usciamo con 4 punti quindi a questo punto insomma abbiamo altri 6 giorni perché giocheremo sabato, abbiamo altri 6 giorni per crescere sotto il profilo della condizione e anche per quanto riguarda il recupero di qualche infortunato. Il proprio sabato c'è una prova verità con l'ostriano perché insomma anche lì il campo non è dei migliori, sarà un glidero chiamato a un'altra impresa? Questo è un aspetto che mi lascia un attimo perplesso, il campo di gioco, una squadra che predilige la tecnica a giocare su un campo in terra battuta non è mai semplice, ne esce fuori una battaglia quindi dovremo, ripeto per essere squadra importante devi essere camaleontico, devi saperti adattare ad ogni situazione e ad ogni esigenza. Il campo sarà in terra battuta, spero non ci sia troppa polvere e mi auguro che comunque ci riesca a calare in quella realtà.